Un virus semantico, così l'abbiamo chiamato quando è esplosa l'epidemia Un disturbo mentale ad alto contagio che si diffonde attraverso la parola Comunemente detto in delirio Perché i contagiati iniziano a dire frasi senza senso È il primo e più importantissimo Con il controllo sulle comunicazioni, la crisi economica, il collasso totale del sistema Il panico, la paura e il caos Il mondo finì per arrendersi alla pandemia In un'epoca in cui ascoltare è proibito Saluto tutti coloro che prestano a noi orecchie Grazie 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 Grazie